C'è un calcio di punizione qui. Attenzione all'Olimpico, settimo minuto. Grande, grandissimo gol di Maradona. Il Napoli ha pareggiato. Maradona ha scambiato il pallone al volo con un compagno e appena questi ha chiuso triangolo, Maradona ha fermato il pallone sul ginocchio sinistro e accarezzandolo letteralmente l'ha mandato nell'angolo sul secondo palo proprio dove Orsi non poteva arrivare. È stato un tiro lentissimo. La palla ha picchiato sull'interno del palo ed è schizzata in rete. Lazio 1, Napoli 1. Numero eccezionale di Maradona che ha scambiato il pallone con un compagno. Questi ha chiuso triangolo, Maradona ha stoppato il pallone sul ginocchio sinistro, l'ha fatto scendere lungo la gamba e sempre di sinistro l'ha malignamente accarezzato. Per mia buona avventura mi sono trovato allineato con la traiettoria di questo pallone e l'ho visto, sembrava fuori. All'improvviso questo pallone si è inclinato verso il secondo palo dove non sarebbe arrivato mai nessuno. ha picchiato sulla base interna del pallone, il pallone è schizzato in rete. È stato veramente un gran gol, oltretutto fatto in corsa.